Ciao bambine e bambini, come state? Emma mi prega di salutarvi tanto tanto e di darvi un bacione e mi ha mandato una ricetta che potete realizzare facilmente con l'aiuto di mamma e papà. Sono le palline di neve al cocco, buonissime! Ci servirà farina di cocco, più o meno 130 grammi. Ecco, mettiamo una ciotola e un pochina la mettiamo in questo piattino. Ecco la ricotta, 250 grammi. La mettiamo nella farina. Ecco, aggiungiamo ancora due cucchiai di zucchero. E adesso mischiamo tutti gli ingredienti. Prima con un cucchiaio, così. Ecco, e poi con le mani. Deve venire un composto abbastanza solo, perché poi dovremo fare delle palline. Ecco, mischiamo bene. Ci vorrà qualche minuto. Il nostro composto è finito. Adesso ne prendete, delle piccole porzioni, così. E fate una bella pallina con le vostre mani. Così. E poi, puff, nella farina di cocco. Ecco qua. Le impagniamo bene e le mettiamo in un contenitore. Le facciamo ancora. Ecco, vedi una bella pallina. Ecco qua, è giù nella farina di cocco. Andate avanti così, fino a che non avrete finito tutto il composto di ricotta e farina di cocco. Il risultato finale. Mmm, sono buonissime. Vi consiglio di tenerle in frigorifero per un'oretta almeno, prima di mangiarle. Saranno più consistenti. Buon appetito e alla prossima. Ciao! Ciao!